Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video, io sono Kirio e queste sono le letture manga che ho fatto a giugno 2024. Naturalmente partiamo come sempre dalle novità e la prima è Tokyo Igoro, giorno per giorno, di Taiyo Matsumoto, cofanetto con i tre volumi, serie completa, veramente meraviglioso, infatti probabilmente mi avrete già sentito parlare di quest'opera in un video specifico, quindi non vi dico nient'altro, voglio che andate a vedere il video perché ne ho parlato approfonditamente, comunque è opera veramente meravigliosa. Peccato per l'edizione italiana che è bella ma ha un cofanetto indecente, veramente ballano dentro come potete vedere e anche qui è mezzo aperto, insomma è semplicemente un foglio di carta che racchiude i tre volumi, ma soprattutto purtroppo ci sono diverse tavole abbastanza tagliate malamente sotto, come potete vedere da questo cerchio qui sotto appunto, ma ci sono diverse altre cose dove si vede che questo taglio non è fatto al meglio. Peccato, peccato, soprattutto un grande autore come lui meriterebbe più attenzione. Ehi, prima di andare avanti con il video ti ricordo che a novembre andremo in Giappone e che qui sotto in descrizione trovi tutte le info e il programma del viaggio, che scaricando il gioco mobile Domino Dreams dai un piccolo aiuto al canale, trovi il link qui sotto, che su Pampling ci sono le magliette a 7,90€ e tutto il resto del sito scontato fino al 50% e con il codice Kirio hai anche i calzini in omaggio, e che su Manga.io, inserendo il codice Kirio, hai il 5% di sconto. Un'altra opera che mi è piaciuta davvero molto è Uo Tomizu, come un pesce nell'acqua di Gengoro Tagame, volume unico uscito per Planet Manga a 7€. È questa storia di questi due ragazzi, uomini, che si conoscono inizialmente come amici, perché appunto uno di loro va spesso a casa dell'altro, dato che sa cucinare, mentre l'altro è un pochino più il classico single che non sa fare molto di per sé, quindi va a casa dell'altro che sa cucinare, poi comincia a dormire lì, comincia a vedere qualche film insieme a lui, e insomma davvero piano piano nasce questo sentimento che secondo me nasce proprio da la voglia di stare insieme, perché si sta bene insieme, cioè è una cosa che va proprio oltre quelli che sono i sessi delle due persone, sono due persone che stanno bene insieme e decidono di passare del tempo insieme, semplicemente. Davvero mi ha colpito appunto maggiormente proprio la semplicità di quest'opera. Mi è piaciuto un po' meno invece Sleek Star, infatti ho deciso di non continuarlo, di Sufo Itaashi, avevo già letto un'altra sua opera pubblicata di recente da Icari, 14,90 il primo volume, saranno 4 se non ricordo male, classico sci-fi anni 80-90, il disegno è molto molto bello, devo dire la verità, guardate ad esempio questo personaggio, mi piace il tratto davvero ben definito con queste linee marcate di questo autore, però la storia secondo me è un po' invecchiata male, diciamo che ci sono queste situazioni un po' da spy story appunto anni 80 e 90 che comunque tendono a voler trovare sempre ogni due pagine un nuovo plot twist che porti a complicarla e renderla ancora più intricata come storia. Ci sta, magari per chi è super appassionato di quel genere, però a me non mi ha detto molto. Mi è piaciuto abbastanza The Bugle Call, novità di Mozuko Sora alla storia e Higoro Toumori ai disegni, primo volume per Planet Manga a 7 euro. Questo personaggio che ha un'abilità incredibile con la musica, è un appassionato di musica, l'unica cosa che vuole fare in realtà è suonare, proprio perché il resto del mondo gli fa abbastanza schifo, anche perché ci troviamo in un mondo pieno di guerre, di sangue, di morti ammazzati, e la cosa interessante è che lui però nasce con una particolarità che è quella di riuscire a guidare le proprie, le persone, non le proprie, non c'entra nulla, le persone con la sua musica, attraverso la sua musica, quindi questo suo lato viene sfruttato per muovere dei militari, o per meglio dire più che dei militari in generale, comunque per delle persone che devono muoversi per andare in guerra. Molto molto interessante, mi è piaciuto molto anche il disegno, lo trovo veramente un manga che in alcuni tratti, con tutte le dovute cauzioni, mi ha ricordato un pochino anche l'atmosfera di Berserk. Non mi ha detto che era che, anzi direi quasi nulla, Make the Exorcist Fall in Love, di Aruma Harima e Masaku Fukuyama, uscito per Planet a 7 euro. Questo me lo hanno inviato loro qualche tempo fa, gli ho dato una leggiucchiata, però veramente non è la mia cup of tea. Questo ragazzino che è veramente super super fissato con la religione, tanto da non vedere oltre il proprio naso, solo che ha un grande potere dentro di sé che gli permette di sterminare questi demoni che insomma si frappongono sulla sua strada. I disegni in realtà, come potete vedere, non sono neanche male, sono abbastanza dettagliati, sono ben tratteggiati, però si discosta veramente molto molto poco da un classico schema di alcuni shonen che a me proprio ormai non dicono veramente nulla. Molto carino, invece ho trovato, sono un gatto, anzi un cane, di Katana Sagima, uscito per Toshokan. Toshokan, eccolo qua, questo manga in volume unico a 8,90 euro, disegni molto carucci, li avevo già notati infatti in un mio video dove andavo a pronosticare alcuni manga per ragazze che secondo me dovevano essere pubblicati in Italia. Toshokan ha pubblicato questo e ne pubblicherà un altro prossimamente che è Fire. e appunto parla della vita di questa ragazza che incontra questo gattino che però ha una grossa particolarità, ovvero quella di essere stato un cane in una vita precedente e adesso si è reincarnato in un gattino. E quindi seguiamo semplicemente le loro avventure. Le loro avventure e quelle di persone a cui loro sono in qualche modo collegati. ed è interessante come Slice of Life appunto perché poi ci fa vedere diversi punti di vista sia dell'animale che di tutti gli umani che gli sono intorno. Caruccio, caruccio. E carino anche se non imperdibile a mio avviso è Io, Lui e il gatto di Nemu Yoko, uscito per Baopublishing a 8,90 euro, volume unico. Anche questo, nonostante appunto il titolo Io, Lui e il gatto, questo non è così concentrato come l'opera precedente sulla vita con l'animale, anche se naturalmente ci sono alcuni capitoli dove si parla della vita con il gatto, anzi inizialmente se ne parla abbastanza, ma poi diciamo che va più che altro verso lo Slice of Life e quindi parla di quella che è la vita dei due protagonisti. Un ragazzo che fa una scuola di design, che fa il designer e lei che fa la mangaka. E' interessante più che altro anche vedere proprio la vita di questa ragazza che fa la mangaka con tutte quelle che sono le scadenze, i soliti ritmi, le solite cose insomma che sappiamo tutti essere parte integrante della vita di un fumettista giapponese. Comunque interessante, non un capolavoro ma un'opera abbastanza leggibile e godibile. Per quanto riguarda invece quelle in prosecuzione ho letto il 2 di Shenzé, molto molto interessante, intrigante questa storia abbastanza orrorifica. Il penultimo volume, il 9 di Accruel Gadrains di Moto Agio, davvero un capolavoro incredibile anche se secondo me la seconda parte non è ai livelli della prima, ma comunque si mantiene un ottimissimo manga. Rumik World volume 2, bellissimo, le storie brevi della Takashi sono sempre meravigliose. Il secondo di Land si conferma un'opera eccezionale, una delle più grandi sorprese di questo 2024. Di Aspolis, anche questo, molto interessante, non mi piace quanto Land ma è sicuramente interessante. Poi c'è il terzo di quel capolavoro di Aula alla Deriva. Ho letto anche il 9 di Call of the Night, sono rimasto un po' indietro con Call of the Night quindi devo andare avanti, ma in particolare questo volume davvero tosto, davvero figo. Poi il 5 di Maiwai, sempre un manga totalmente delirante. L'ottavo volume di Asadora, molto molto carino, anche questo si sta mantenendo su dei buoni livelli. Il terzo volume di Medalist, anche su questo rimasto un po' indietro ma adesso vado avanti e poi vi faccio sapere meglio. Il secondo di Shibatarian, figo, mi è molto piaciuto questo, come avete visto anche su Instagram perché ne ho parlato un pochino lì, quindi mi ha convinto al 100% dopo un primo volume zoppicante. Il secondo volume di Blow Giant Supreme, vado avanti anche con questa meraviglia di manga, davvero eccezionale, finalmente si forma una band. Il 19 di My Home Hero, il 7 di Jumbo Max. Poi abbiamo il quarto di Giarinco Cie, la Manella Cie, di cui vi parlerò in un video specifico a brevissimo. Il quinto di Vino di Zucca, questo davvero ve lo consiglio, super simpaticissimo, soprattutto se vi piacciono le commedie romantiche degli anni 80-90, ma in generale davvero a me fa molto molto ridere le situazioni in cui si ritrovano questi due personaggi. E il numero 6 di Finché è morta e non ci separi, stanno davanti anche con questo qui. E voi? Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa avete letto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e condividetelo con qualcuno a cui pensate possa interessare. Scrivetemi se volete venire in Giappone e mi raccomando andate su Pampling mettendo sempre il codice Kirio per supportarmi. Noi ci vediamo alla prossima e ciao! Grazie a tutti!